Sarà un ventesimo turno scoppiettante quello che andrà in scena il prossimo fine settimana nel girone C di promozione. Le ultime sei classificate si affronteranno tra di loro dando vita a veri e propri scontri salvezza. Andiamo per ordine. Partendo dalla posizione appena fuori la griglia play-out, ovvero la sest'ultima, occupata attualmente dal comprensorio miscano, bisogna registrare l'impegno esterno degli uomini di Marinaccio sul campo del San Martino Valle Caudina, quart'ultimo in classifica, che, sui 15 punti conquistati in questo campionato, ben 12 li ha vissi arrivare dagli impegni interni. Ancora più acceso sarà il match tra Arte Misum e Felice Scandone Montella. La formazione pugliese, fino a qualche settimana fa, era completamente al di fuori dalla lotta per non retrocedere. Dopo le sconfitte a Tavolino per due ricorsi, si è ritrovata al quint'ultimo posto in classifica, 15 punti e con una rosa indebolita da diverse partenze. Completamente opposto il momento della Felice Scandone Montella di Gianni Montanile, dopo l'avvento dell'ex tecnico della Virtus Avellino, insieme a quelli di Fortino e Fiume, la squadra bianca-azzurra ha avuto un netto miglioramento. Nella zona bassa della classifica è l'unica ad aver già riposato ed inoltre, con una vittoria sull'Artemisum, scavalcherebbe proprio la diretta concorrente, portandosi a 16 punti. Infine, scontro a bassa quota tra Bisaccese e Siconolfi, rispettivamente ultima e penultima in classifica per la serie, si salvi chi può.